I pubblici esercizi vogliono accelerare la fase 2 e da qui la richiesta della Fipe Conf Commercial, presidente della regione siciliana Nello Musumeci, di estendere fin da subito la possibilità di riaprire pasticcerie, ristoranti, pizzerie, barre e gelaterie. Un'indagine rivela come i pubblici esercizi nel solo anno in corso possano perdere circa 21 miliardi di euro di fatturato e che siano a rischio chiusura circa 50.000 imprese del settore, con evidenti ripercussioni anche sul profilo occupazionale. si stivano circa 300.000 posti di lavoro in meno ed in particolar modo qui in Sicilia con quasi 20.000 aziende e circa 90.000 lavoratori tra dipendenti e stagionali. La prima data utile potrebbe essere quella del 4 maggio ma per molte attività di food potrebbe già essere troppo tardi, come sottolinea Armando Grimaldi della Fipe Conf Commercio. Si spera che il 4 maggio si inizi a ritornare alla normalità, ma per normalità cosa si intende? Perché io sono certo che cambieranno e sono già cambiate le nostre abitudini. E ricordo che i pubblici esercizi sono luoghi di incontro, di socializzazione, quindi già la gente sarà restia ad avvicinarsi a questi locali, ammesso e concesso che saranno quelli che ripartiranno, perché da quello che ho sentito, da parte anche dal governo e non solo dalla regione, saranno gli ultimi a ripartire, se non a fine maggio. Con dei criteri molto restrittivi a livello igienico-sanitario che ovviamente sono forti dubbio da utilizzare. Ricordo che Gela ha una maggioranza percentuale di circa mille attività di pubblici esercizi, tra bar, passiccerie, pizzerie e ristoranti. Ricordo anche che i ristoranti a Gela sono dei ristoranti anche molto stretti, tra virgolette, nel senso con pochi posti a sedere. Quindi sarà non impossibile, ma sarà difficilissimo il ritorno alla normalità per queste tipologie di attività. A risentirne maggiormente saranno sicuramente le imprese più piccole, i bar o i ristoranti a conduzione familiare. Abbiamo dei bar che sono gestiti in maniera familiare, spesso e volentieri, quindi molto piccoli. Dimmi tu come fanno a regolare, cioè se uno va al bar, non va al bar solo per prendere il caffè, va al bar con gli amici. Oggi, sono sicuro, al momento in cui si riparterà, queste attività non avranno la possibilità di ospitare all'interno clienti. Chi fa questo lavoro, la pizzeria, il ristorante, il pasticcere che sta subendo veramente gravi perdite, lo fa con amore. Tenderà di riaprire, Gerry, tenderà di riaprire, ma non ce la farà. Noi abbiamo delle entrate a livello amministrativo, comunale, diverse da tutti gli altri comuni, perché abbiamo avuto l'Eni qua, l'Eni ancora sussiste qua. Se le cose vanno per il verso giusto e c'è la volontà politica di volere aiutare le nostre aziende, non parlo solo dei pubblici esercizi, ma anche dei parrucchieri, parlo degli essitisti, che sono al collasso. Sono arrivate le bollette, perché poi c'è una cosa che non tutti abbiamo detto. Siccome la chiusura è arrivata verso il 12 marzo, quando già sono arrivate tutte le bollette, le scadenze, e ti assicuro che tutti hanno pagato perché la speranza era quella di ripartire subito, si ritrovano quel poco gruzzoletto messo da parte ormai speso e quindi sono sotto zero. L'amministrazione spero che voglia aiutare e la politica faccia qualcosa per dare un po' d'ossigeno a queste attività e sperare di ritornare al lavoro. E a questa crisi, secondo Grimaldi, non può avviare sicuramente il semplice asporto o la consegna a domicilio. Per l'effessività ci sarà la consegna ed è qualcosa di positivo, però si perderanno gli ostessi posti di lavoro. Perché è ovvio che io all'interno del laboratorio di pasticceria, di gelateria, di pizzeria, non ho più bisogno del personale che avevo prima. Tutto è personale di sala, non serve più. Cioè, se io ho tre persone in cucina, ammesse con gesto che mi continuino a servire, ho la pizzeria, un pizzaiolo e un aiuto pizzaiolo. Il personale di sala non esiste più. Una pizzeria che aveva 4, 5, 6 addetti alla sala non ce n'avrà più bisogno e i posti di lavoro si perderanno lo stesso.